Estra e Energie, Confesercenti e Arezzo rendono meno pesante la bolletta. Energia e gas incidono infatti in maniera consistente sui bilanci delle imprese, soprattutto in questo periodo nel quale le tariffe si stanno rialzando. Estra e Confesercenti hanno quindi siglato un accordo che punta a ridurre i costi per le imprese aderenti all'Associazione di Via Fiorentina. Quest'anno è aumentato notevolmente il petrolio che ha prodotto aumenti importanti del 6,5 sul gas e dell'8,2 sull'energia elettrica. Noi responsabilmente attiviamo questo tipo di convenzioni per venire incontro a categorie importanti come quella rappresentata da Confesercenti per stabilizzare i prezzi e alleggerire le bollette per il nostro territorio. Quindi un atto di responsabilità e di vicinanza a una categoria economica che rappresenta una fetta rilevante dell'economia territoriale. L'associato può scegliere sia un prezzo fisso e quindi si mette a riparo ad eventuali aumenti di mercato oppure avere un prezzo variabile che segue il mercato in maniera dinamica in base a un prezzo unico nazionale stabilito da un ente. Sempre con delle agevolazioni però per l'azienda? Assolutamente, questo qui è la prima cosa che facciamo quando stipuliamo un accordo quadro sostanzialmente. Quanto potrebbero risparmiare? Risparmiano in base ai consumi sostanzialmente, quindi possono risparmiare da piccole decine di euro a centinaia di euro.